Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente dovrà rinunciare a lavorare il sabato pomeriggio nella sede ASL del capoluogo dove in qualità di dipendente si occupa di risk management. Cialente fino ad oggi ha conciliato i suoi impegni di sindaco con quelli di dirigente dell'azienda sanitaria, lavorando anche al di fuori dei normali orari osservati dagli altri dipendenti e in giorni non feriali. Nei giorni scorsi ha ricevuto un ordine di servizio dalla direttrice del suo dipartimento di medicina legale che lo invita a lavorare nei normali orari d'ufficio. E se per la direttrice si tratta di un atto di ordinaria amministrazione, decisamente diversa è stata la reazione del sindaco. Mi vogliono far fuori dalla ASL, ha affermato Cialente, me la vogliono far pagare impedendomi di lavorare il sabato pomeriggio come fanno del resto anche altri miei colleghi, ha aggiunto, sanno perfettamente che sarei costretto ad andarmene. Intanto sulla vicenda c'è chi minimizza. Per il direttore sanitario dell'ospedale dell'Aquila, Sabrina Cicogna, il lavoro svolto da Cialente, che consiste nella redigere relazioni, potrebbe di fatto essere svolto in qualsiasi momento della giornata. Non è escluso quindi che l'ordine di servizio della ASL possa essere a breve modificato.